Allenamento valigia 2, ma questa volta la valigia è la mia. Bene, il problema della valigia è sempre la stessa, non abbiamo mai abbastanza spazio per portarci in vacanza tutto quello che vorremmo e quando vorremmo portarci la nostra home gym o un pezzettino della nostra home gym il problema diventa veramente grande. Come facciamo a mettere dentro nella nostra valigia i nostri amati attrezzi per continuare ad allenarci anche quando siamo in vacanza? Bellissima domanda, abbiamo già risposto a questa domanda con il video precedente allenamento valigia gambe glutei che ho registrato con Federica che poi infatti si è messa alla sua home gym in valigia ed è partita, ma oggi ti faccio vedere il prosieguo di quel metodo di allenamento che puoi portarti in vacanza occupando davvero poco spazio, quel poco spazio che potrebbe rimanere anche nella tua valigia così da portare avanti il tuo allenamento anche mentre sarai bello rilassato o rilassata al mare, in montagna o in qualunque luogo tu stia per andare in vacanza. Facciamo un piccolo recap. Allora, per riuscire a centrare le esigenze di spazio della valigia e le nostre esigenze di allenamento la soluzione più pratica ed efficace sono degli elastici come questi che ti sto mostrando e come puoi vedere in tanti altri nostri video del canale youtube. Nell'allenamento di oggi li utilizzeremo tutti e due uno e due faremo quattro esercizi con un elastico un pochettino più duro e poi faremo un esercizio con questo elastico un pochettino più morbido il focus del mio allenamento valigia in quanto maschietto in quanto maschio che vuole andare a mostrare il suo pettorale in spiaggia sarà appunto focalizzato tutto sui pettorali quindi quattro esercizi ripeto con questo e uno con quest'altro è un video spiegazione questo ok quindi non un video workout quindi ti mostrerò questi quattro più uno esercizi quindi come si eseguono gli errori che non devi fare e dopodiché lascio a te l'esecuzione del workout ok quindi 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 fatta questa doverosissima introduzione cominciamo a vedere quali sono gli esercizi del mio workout valigia il primo esercizio lo sai benissimo quando vuoi allenare i pettorali ma non hai tantissime attrezzature per farlo è il push up ok e infatti oggi come primo esercizio ti faccio vedere una versione del push up potenziata che può tranquillamente andare a sostituire degli intensi allenamenti alla panca piana con il bilanciere o con il manubrio e per farlo ovviamente ci serve il nostro amico elastico come funziona funziona così mettiamo l'elastico in questa maniera dietro la schiena mi giro un attimo così vedi ok come vedi piegandolo crea queste due asole in queste due asole pam e pam inseriamo le mani ecco qua questa sarà la nostra posizione con l'elastico posizionato così andiamo mi sposto un attimino così rimango in inquadratura andiamo a metterci sul pavimento ci vuole un pochettino di abilità perché sennò rischi di dare una nasata al pavimento ma una volta che ti sei messo o messa nella posizione di push up ecco che puoi cominciare a fare i tuoi piegamenti eccoli qua uno due allora cosa cambia rispetto un push up normale cambia che ovviamente man mano che spingo l'elastico si tende e crea una resistenza e ovviamente è questo è un push up potenziato perché non solo hai il peso del tuo corpo da spingere ma hai anche da vincere la resistenza dell'elastico ok rivediamolo un attimino purtroppo oggi non c'ho fede che mi aiuta nelle spiegazioni eccolo qua qua è uguale ma man mano che spingi l'elastico tira e ti fa fare più fatica ok alla fine della siera è un po' come se hai appoggiato sulla tua schiena un peso che si aggiunge alla tua spinta oppure è l'esatto stimolo che diamo ai pettorali quando ci carichiamo un bilanciere sulla panca piana aumentiamo il carico più aumentiamo il carico più l'esercizio diventa faticoso in questo caso uguale più è teso l'elastico più è duro l'elastico e più sarà faticoso effettuare il push up ok allora primo esercizio del workout valigia per i pettorali è questo qua si chiama scusa fiatone perché pompa ok ti fa pompare questo esercizio poche ripetizioni di push up con la resistenza dell'elastico e già vai in affanno si chiama push up potenziato rivediamo ancora un attimino giusto per essere chiari così vedi bene la posizione dell'elastico la posizione delle mani e io faccio ancora un po' di workout anche ok eccolo qua classico push up se l'elastico è posizionato bene non devi fare altro che concentrarti sulla spinta vai e via uno ok e via due come vedi tutto a posto non succede nulla l'elastico fa il suo lavoro tu fai il tuo e il primo esercizio di potenziamento dei pettorali da fare in vacanza ce l'hai ok voglio dire subito una notazione molto importante non perché ho iniziato il video facendo riferimento al piacere di noi maschietti di mostrare pettorali questo workout non è adatto al gentil sesso va benissimo anche per le nostre amiche che ci seguono ok perché ovviamente potenziare tutta la parte superiore ok migliora il vostro aspetto estetico generale non è affatto bello avere il fisico molto ben sviluppato nella parte inferiore e molto poco sviluppato nella parte superiore l'immagine totale non è graziosa tanto quanto quando lo sviluppo è armonico sopra e sotto quindi anche se sei una nostra follower fai svolgi questo workout portati i nostri elasticini i tuoi elasticini in vacanza fai il workout di fede per gambe glutei sì ma fai anche questo per i pettorali della parte superiore detto tutto questo visto il primo esercizio passiamo al secondo il secondo lo possiamo fare in tutte le posizioni quindi o in ginocchio come ero fino a poco fa o seduto ok oppure in piedi per comodità in questo video mi metto in piedi quindi nuovamente portiamo l'elastico dietro ok come abbiamo fatto prima te lo faccio rivedere nuovamente si creano le due asole che hai davanti nelle quali hai vai a inserire le mani e dopodiché la posizione di partenza è questa a braccia larghe così va bene mi metto un po di tre quarti così vedrai bene il movimento che faccio ed ecco l'esercizio pum croci chiaramente quando lavoriamo con gli elastici non ci fermiamo qui come con i manubri ma protraiamo il movimento più possibile e andiamo proprio a strizzare i pettorali ok quindi vediamo qualche ripetizione insieme ecco qua uno va bene e poi due ok vedi come va e poi tre come vedi l'elastico si dispone correttamente quasi da solo non devi fare nessun tipo di fatica ok rivediamo ancora un po bene il movimento eccolo qui boom ancora una volta mi ripeto l'importante di questo esercizio è il pezzo di movimento che fai da quando le mani si sovrappongono in poi va bene è lì che l'elastico esercita il massimo della sua tensione e ti dà il massimo dell'allenamento non che la parte che precede non ci fa niente ma ovviamente questo pezzettino che aggiungi è veramente una ciliegina sulla torta ok pum lo senti io ho già poche ripetizioni e sto sentendo i pettorali che lavorano annotazioni non ce ne sono ok se non quello di farlo a braccia più tese possibili perché potrebbe venirti di fare così quindi ora io sto esagerando ma comunque immagina di tenere le braccia meno piegate e ovviamente riduci l'efficacia ma se ti sforzi di tenere le braccia larghe come ecco una croce guarda così va bene e poi a braccia tese vai a chiudere boom ecco che un semplicissimo elastico come questo si trasforma veramente in un attrezzo da palestra come quelli che trovi in palestra e che costano tra l'altro uno sproposito e che non ti starebbero assolutissimamente in valigia ok piccola nota sugli elastici che diciamo sempre nei nostri video quando lavoriamo con gli elastici gli elastici si differenziano per due caratteristiche uno lo spessore e lo spessore comporta la tensione dell'elastico ok più è spesso più è duro più si oppone più è sottile più è morbido ok la resistenza degli elastici può essere paragonata al peso dei manubri e dei bilancieri quindi più è spesso l'elastico più equivale a un manubrio più pesante un bilanciere più pesante è lo stesso concetto quindi dovendo eseguire questi workout con gli elastici questo di oggi e gli altri presenti sul canale scegli sempre molto bene la resistenza dell'elastico che devi utilizzare normalmente per tutti i tuoi workout te ne possono bastare uno o due ma se proprio vuoi spaccare il capello in quattro come alle volte diciamo dotati dotati di una serie di elastici da quelli molto più leggeri a quelli molto più pesanti con 5-6 elastici hai letteralmente una palestra a portata di mano quindi in questo caso in valigia va bene e quando tornerai dalle vacanze a casa ti puoi allenare veramente in meno che un metro quadro di casa ok fatta anche questa seconda annotazione molto importante andiamo a vedere il terzo esercizio di questo workout che continuerò a eseguire con il mio elastico più pesante sempre oramai l'hai capito la posizione dell'elastico è questa dietro le spalle ok sempre si formano le due asole davanti nelle quali io vado a inserire le mie mani ok ecco qua mi metto sempre di tre quarti così vedi bene e parto in questa posizione devi immaginare per eseguire questo esercizio di dare un pugno in faccia a qualcuno pensa a una persona che ti ha fatto incazzare recentemente ecco boom gli dai un pugno in faccia prima con un braccio e poi con l'altro ah ti odio boom pugno mi hai fatto incazzare boom pugno due va bene e continui semplicemente un pugno tu immaginati di dare un pugno ok e vai avanti destro sinistro destro sinistro destro sinistro che differenza c'è dal dare veramente un pugno che quando diamo un pugno boom partiamo di slancio invece qua l'elastico non ce lo permette e quindi noi in realtà assecondiamo questo e lo eseguiamo in maniera lenta e costante boom uno boom due sia nella fase in cui spingo il pugno sia nella fase in cui torno perché l'errore sarebbe questo ok fare così se tu fai così fai meno che metà dell'esercizio o peggio ok questo non è un esercizio non c'è attivazione muscolare usi veramente bene l'elastico e lo trasformi ti ripeto ancora una volta in una palestra tascabile se assecondi la resistenza che oppone l'elastico quindi un movimento lento e controllato quando spingi un movimento lento e controllato quando torni indietro sia col braccio destro che col braccio sinistro e via boom e boom se lo esegui così non ci sarà bisogno della mia spiegazione perché ti renderai conto da te dell'efficacia dell'esercizio ok boom e boom come vedi molto semplice quindi tenendo a mente due semplicissime cose che sono l'idea di dare un pugno e l'idea di farlo in maniera a rallentatore ok così il terzo esercizio con l'elastico che ti puoi portare in vacanza lo abbiamo visto ok e a questo punto possiamo tranquillissimamente passare al quarto esercizio non te lo sto quasi più a dire ma nuovamente elastico dietro le spalle ok sempre si formano le asole naturalmente sempre nell'asola andiamo a mettere la nostra mano e uno e due e se prima nell'esercizio di prima abbiamo fatto le braccia una per volta immaginando di dare un pugno nell'ultimo esercizio con l'elastico pesante il più pesante che hai lo facciamo con tutte e due le mani ok e quando fai questo invece devi creare nella tua testa l'immagine di te che fai esercizi tipo spinte manubri sulla panca quando sei in palestra eccolo qua vedi immaginati che io qui abbia i miei due manubri ecco il movimento boom spinte oppure posso partire direttamente così con le mani in questa posizione e posso immaginare di avere il mio bilanciere boom quindi sostanzialmente questo esercizio potrebbe avere due varianti la variante uno è con la rotazione delle mani vedi partono verticali e finiscono orizzontali la versione 2 è con l'impugnatura neutra sempre orizzontale a simulare il bilanciere uno ok due anche in questo caso te lo faccio vedere l'elastico si dispone naturalmente tra le spalle e il gomito non si sposta più non devi diventare matto o matta a sistemartelo va bene? boom ok e via non c'è altro da sapere ecco una notazione te la posso dire la differenza tra l'esercizio che abbiamo visto prima che era questo e questo è che quando lo fai a due mani ovviamente stiamo tendendo l'elastico da tutte e due i capi qua solo da uno ok qua da tutte e due quando tendo l'elastico da tutte e due i capi ovviamente raddoppia la resistenza che lui oppone al nostro movimento quindi questo esercizio è il doppio più pesante di questo esercizio qua ok? questo tienilo a mente perché non è detto che quando tu ti allenerai a casa o in vacanza con questi miei esercizi li vorrai eseguire nell'ordine in cui te li sto facendo vedere io oggi li puoi mischiare se li mischi potrebbe essere interessante metterli in ordine di difficoltà quindi quando sei un pochino più fresco o fresca esegui quelli più pesanti mano a mano che ti stanchi ci metti quelli più leggeri di questi quattro il push up a terra con la resistenza dell'elastico è sicuramente il più pesante questo è il secondo più pesante e gli altri sono un pochettino più leggeri quindi modulali ordinali in maniera che assecondi il tuo stato di affaticamento altra cosa importante non è detto che debbano essere presenti tutti nello stesso workout potresti anche spacchettare quindi oggi ne vediamo appunto 4 più 1 5 potresti fare un workout da 2 più 1 e un altro workout da 2 più 1 ok quindi hai un workout a metà a metà dell'intensità ma che comunque rimane efficace ok se hai bisogno di qualche indicazione intanto io ti faccio vedere ancora qualche ripetizione ripetizioni se hai bisogno di qualche altra indicazione su questi workout scrivi sotto nei commenti io ti rispondo tranquillamente va bene allora senti l'esercizio è molto semplice abbiamo detto tutto quello che c'era da dire e quindi anche il nostro quarto esercizio con l'elastico pesante da mettere in valigia per continuare ad allenarci in vacanza lo abbiamo visto e adesso ne andiamo a vedere uno un po' a metà in realtà tra pettorali e deltoidi i deltoidi sono questi muscoli qua la pallina che abbiamo in questa zona del corpo perché lo mettiamo nel workout di pettorali perché in realtà i deltoidi e i pettorali il grande pettorale collaborano sempre e quindi quello che fa uno un po' lo fa anche l'altro e quindi questo esercizio che ora ti faccio vedere ci sta proprio preciso 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 il meccanismo è sempre lo stesso abbiamo fatto passare l'elastico dietro questa volta però non dietro le spalle lo andiamo a incastrare ti faccio vedere ok sotto la piega glutea si chiama qua cioè dove il gluteo si va a inserire nella gamba perché abbiamo bisogno di incastrarlo un attimo per meglio fornire all'elastico un incastro pieghiamo leggermente le ginocchia vedi eccolo qua va bene così quindi eseguiremo l'esercizio con le ginocchia ora c'è il pantaloncino lungo non lo vedi ma con le ginocchia leggermente flesse va bene perfetto quindi mi rimetto il mio elastico in posizione mi ci siedo leggermente sopra parto da questa posizione sempre di tre quarti così in maniera che vedi bene il movimento e da questa posizione salgo verso l'alto e chiudo più che posso da seconda della resistenza del tuo elastico potrei allungarlo più o meno io ho un elastico medio quindi più di un tot non riesco comunque adesso mi sforzo un attimo e ti faccio vedere pronti partenza via hop ok hai visto? benissimo uno due benissimo ora poi ti spiego l'attivazione muscolare in che cosa consiste e tre va bene? intanto guardo un'altra ripetizione poi ti spiego e quattro benissimo allora il pettorale si attiva perché il movimento è un po' in diagonale e questo movimento te lo fa fare il muscolo pettorale il deltoide si attiva perché il movimento è dal basso verso l'alto quindi questi due movimenti incrociati basso alto esterno interno attivano uno il pettorale l'altro il deltoide io questi due elastici avevo in realtà potrebbe essere interessante le prime volte almeno che fai questo esercizio usare un elastico morbidissimo ok? perché come vedi anche io faccio un bel po' di fatica no? un esercizio tosto riproviamo ok e uno vedi? sono seduto sull'elastico perché se non fossi seduto potrebbe accadere questo cioè l'elastico vum scivola e mi arriva qua mentre eseguo ma se lo fermo bene sotto il gluteo e mi ci siedo leggermente sopra non vado a nessuna parte respiriamo bene prima di eseguire con un po' di manovra di valsalva si chiama quindi tenendo il fiato trattenendo il fiato quindi respiro trattengo il fiato e su da fuori a dentro e da sotto a sopra ok da fuori a dentro e da sotto a sopra tostissimo ok non c'è altro probabilmente ritornando alla spiegazione di prima questo esercizio è uno dei più tosti di questo workout quindi meriterebbe una delle prime posizioni nel workout perché te l'ho fatto vedere infine perché è un esercizio a metà tra i pettorali e deltoidi ecco per questo abbiamo chiamato il workout 4 più 1 ok quindi io ti do questo consiglio sin da adesso concentrati prima sui 4 esercizi che abbiamo visto con l'elastico grigio quello pochettino più pesante questo mettilo come piccola giuntina ok se frazioni l'allenamento in due parti questo esercizio magari fai una sola serie per ogni parte quindi 2 più 1 e 2 più 1 ok e detto questo io penso che il nostro workout per i pettorali che puoi mettere in valigia senza occupare spazio può dirsi concluso bene 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 allora oggi sono solo a registrare il video però l'abitudine di concludere il workout sul divano me la tengo tale quale come quando c'è sede finito questo anche io andrò a preparare la mia valigia per le vacanze come avrai magari immaginato durante il video i miei due elastici che occupano guarda quanto poco spazio il palmo di una mano quando sono piegati ok me li porterò con me in valigia perché eseguirò questo workout che abbiamo appena visto insieme più altri workout con gli elastici per allenare tutto il corpo come per esempio gambe glutei che abbiamo registrato settimana scorsa con Federica prima che partisse anche lei benissimo vediamo se ci sono annotazioni su questo workout direi di no perché era un workout con spiegazione quindi un esercizio spiegazia quindi tutto quello che devi sapere su questi esercizi già te li ho spiegati mentre li vedevamo insieme ti ricordo ancora una volta che se dovessi avere qualche dubbio in merito a questo workout o altri workout scrivici sotto nei commenti e noi ti rispondiamo ti aiuteremo a risolvere questi dubbi detto questo non mi rimane che rivolgerti un invito e l'invito è quello di iscriverti se non l'hai ancora fatto al nostro canale youtube perché pubblichiamo nuovi video ogni settimana almeno due video ogni settimana e spaziamo perché possono essere video spiegazioni come quello che ho appena visto oggi ma possono essere anche veri e propri video workout quindi momenti in cui ci alleniamo insieme devi semplicemente seguire quello che ti facciamo fare ma non solo ci sono i talks in cui chiacchieriamo di argomenti relativi al fitness al benessere e alla forma fisica con i nostri esperti quindi la nutrizionista veronica la nostra osteopata marta la nostra psicologa teresa ok per affrontare a 360 gradi tutti gli argomenti di fitness e benessere ma altro ancora sul canale trovi veramente tantissimo altro sono presenti già più di 150 video e ne continueranno ad arrivare quindi iscriviti e se dopo che ti sarai iscritto non trovi tutto quello che vorresti per il tuo fitness e la forma fisica ti mettiamo a disposizione ancora una risorsa e la nostra risorsa è il nostro sito internet justwellness.co che ora prova a farti comparire qua in sovraimpressione ok come si diceva in televisione ma ti lascio anche il link sotto in descrizione su justwellness.co trovi tantissimo altro materiale per aiutarti a metterti in forma a rimanere in forma o a migliorare la tua forma fisica e a che cosa mi riferisco mi riferisco a veri e propri programmi di allenamento schede di allenamento come quelle che si trovano e si trovavano negli schedari delle palestre ma non solo programmi alimentari da abbinare ai programmi di allenamento e schede tecniche sugli integratori alimentari che puoi abbinare alle due voci che ho appena elencato ma in realtà in realtà sul nostro sito justwellness.co c'è una cosa ancora più preziosa che è la nostra community la nostra community è un insieme di persone che come me e come te sta facendo questo percorso di miglioramento fisico ok di salute e di forma fisica e quindi su justwellness.co non sei mai da solo o da sola perché trovi tutti noi trainer pronti ad aiutarti ma trovi veri e propri compagni di viaggio quindi persone esattamente come te con i tuoi stessi dubbi le tue stesse problematiche le tue stesse paure con le quali confrontarti e fare questo percorso quasi mano nella mano sebbene virtualmente ma mano nella mano quindi vienici a trovare su justwellness.co e detto questo andiamo andrò vado anche io a fare la valigia ma non prima di averti salutato e di averti augurato una buonissima vacanza e di vederci molto presto nel nostro prossimo video ciao buona vacanza buon workout d'andrea ciao 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 ciao